vicino l'ascella, il movimento, e più hai un buon movimento. Raglan. Poi c'è la cintura. No, questo qui è un cappotto particolare perché c'è una manica raglan e non ha la cucitura sulla spalla. Qua vedi, ha una manica tipo da trench che se piove non entra l'acqua nella cucitura sulla spalla. Perfetto. Grazie.